Casale Cortecerro ha le prese con l'emergenza acqua. Da alcuni giorni infatti in diverse zone del comune Cusiano, dai rubinetti, l'acqua esce a Singhiozzo oppure non esce proprio. Tantissime le segnalazioni arrivate in a comune e ad Acquanovara VCO che gestisce il servizio idrico. Come comune le parole del vice sindaco Claudio Pizzi, non possiamo fare molto. Abbiamo già provveduto ad interpellare i tecnici di Acquanovara VCO che stanno intervenendo in queste ore e ci hanno assicurato che presto la situazione migliorerà. I problemi di approvvigionamento idrico sono stati causati dal periodo particolarmente siccitoso con temperature da piena estate più che da metà settembre. I livelli delle sorgenti naturali che costituiscono la sola fonte di alimentazione dell'acquedotto casalese sono per questo i minimi storici. Il comune ha emesso due ordinanze, una che invita la cittadinanza a fare un uso parsimonioso dell'acqua, l'altra che consiglia di farla bollire per usi domestici. Dalla minoranza però arriva un attacco alla giunta di Grazia Ricchetti. Stiamo assistendo ai soliti ritardi, ritardi nella comunicazione alla cittadinanza, ritardi nelle ordinanze, posizione di totale subalternità nei confronti di Acquanovara VCO che in questi anni non ha mai fatto investimenti nel nostro comune. Ecco perché l'amministrazione ha delle precise responsabilità che sono sotto gli occhi di tutti le parole del capogruppo della minoranza di Vivere Casale, Paolo della Vedova. Ma polemiche a parte, come si può risolvere il problema dell'emergenza idrica casale? Noi come comune, anni fa, conclude Pizzi, avevamo presentato un progetto per andare a pescare l'acqua con una nuova tubazione da sorella acqua Germagno. Era un progetto oneroso che sarebbe costato quasi un milione di euro ma che avrebbe risolto i problemi in caso di esicità per Casale ma anche per Grabellona. A questo punto chiederemo ad Acquanovara VCO di pensare a questo investimento. Lo faremo sia come comune di Casale che come unione dei comuni del Cusio.